In corso alla Camera dei Deputati la prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica e mancanza ancora di un accordo tra i partiti si vota a schiera bianca. Fratelli d'Italia lancia la candidatura dell'ex magistrato Carlo Nordio, riprende quota la convergenza su Draghi. Si continua ad indagare sulla morte di Lorenzo Parelli avvenuta alla Burine che è presenza del tutor, mansioni e dinamica al vaglio della magistratura. Il prefetto di Udine annuncia un tavolo sulla sicurezza, al Beardi, il ricordo dei compagni. Nel mirino dei Nassu un farmacista e tre docenti impiegati in diverse scuole friulane risultano indagati per falso e truffa aggravata. Ottenevano il Green Pass da tampone senza tuttavia mai sottoporsi ad alcuna verifica. Tornano a salire i ricoveri ospedalieri in regione superata quota 500 tra mediche e terapie intensive. Con fiducia alto adriatico apre un temporary shop per vendere le mascherine a prezzo calmierato. Cioffi può lavorare con la necessaria tranquillità e cercare di recuperare alla migliore condizione taluni elementi, in particolare coloro che sono reduci dal Covid. La squadra tornerà in campo al Bruseschi mercoledì pomeriggio. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In primo piano c'è il percorso verso l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. È in corso la chiama alla Camera dei Deputati per questa prima giornata di votazioni. L'esito di questa prima chiamata dovrebbe arrivare verso le ore 21. Tra poco potrebbe incominciare lo spoglio con i Presidenti del Senato Casellati e della Camera FICO che leggeranno uno a uno le schede depositate nelle varie insalatiere dalle tre di questo pomeriggio dai vari deputati, senatori e grandi elettori dei consigli regionali. Una giornata convulsa con ancora l'esito della giornata di Erna che si pronuncia scontato. La maggioranza di schede bianche in attesa si riesca a trovare una quadra tra i partiti per il nome. Ritorna a grande convergenza su quello di Draghi. Oggi è uscito anche una proposta da parte di Fratelli d'Italia, quella di Carlo Nordio, ex magistrato, tra l'altro uno dei nostri opinionisti di punta. Noi per sapere le ultimissime siamo in collegamento telefonico proprio con la Camera dei Deputati con il suo Vice Presidente, il deputato Triestino Ettore Rosato, Presidente d'Italia Viva. Buonasera Rosato. Buonasera. Allora innanzitutto spieghiamo, non possiamo connetterci via Skype perché alla Camera sono saltate praticamente le linee, tanti contatti, tanti contatti tra le varie forze politiche e anche dunque la rete internet ne sta risentendo. Diciamo che probabilmente c'è anche un sovraccarico dovuto alla presenza di tutti i media qui che sono presenti naturalmente alla Canada. Comunque insomma un incidente che speriamo si metta a posto nelle prossime ore. Oggi lei ha dichiarato che non c'è un regista unico e questo rende più complicata questa fase, però io sono ottimista lo stesso perché sembra ci sia piena consapevolezza delle varie forze politiche. Ma a quando e come uscirà questo nome che potrebbe mettere d'accordo tutti, Rosato? Deve uscire con un'intesa ampia che guardi con chiarezza la necessità da una parte di garantire un Presidente della Repubblica all'altezza della sfida che abbiamo, in continuità con il lavoro fatto dal Presidente Battarella, quindi con autorevolezza, con capacità, con una sua riconoscibilità nel Paese. Dall'altra parte è necessario uno sforzo anche per tenere unita la maggioranza parlamentare perché poi questo è indispensabile anche per continuare nell'attività di governo che naturalmente non si ferma dopo l'elezione del Presidente della Repubblica ma continua per i prossimi 14 mesi. Oggi c'è stato nel pomeriggio anche un nuovo incontro tra il leader della Lega Salvini e il leader del PD Letta, due dei partiti di riferimento. Si è riusciti a capire quale potrebbe essere l'intesa? Intanto è positivo che finalmente ci si parli tutti e è bene che Salvini e Letta si parlino. Abbiamo dall'inizio detto la necessità che centrosinistra e centrodestra non mettano venti ma trovino modalità di incontrarsi. Poi qual sarà il punto di sintesi? Naturalmente è contenuto all'interno delle schede non quelle che verranno scrutinate stasera ma quelle che verranno scrutinate giovedì o venerdì. Siamo ancora lontani a giovedì o venerdì e questo indica che siamo ancora lontani alla soluzione. Ma io sono ottimista che nelle prossime ore si possa fare un lavoro serio in questa direzione. I rumors che arrivano dalla capitale parlano di convergenze nuovamente sul nome di Mario Draghi che così lascerebbe libera la casella alla presenza del Consiglio dei Ministri. In questo caso è spuntato il nome della Belloni. Potrebbe essere una delle soluzioni raggiungibili? Io penso che in questo momento la fantapolitica, nel senso non che siano ipotesi fantascientifiche queste, ma che sia un po' come il fantacalcio, può costruire qualsiasi cosa e ogni ipotesi diventa credibile. Io penso che siamo ancora lontani da una definizione di questo e quindi non mi avventurerei in un'ipotesi di questo tipo. Certo, se il Presidente Draghi va a fare il Presidente della Repubblica perché i partiti decideranno di eleggere lui, sarà bisogno nello stesso tempo, anzi un secondo prima, definire anche cosa succede sul Governo perché una fase di questo tipo non può certo consentire una vacanza sul Palazzo Chigi con le difficoltà che a Palazzo Chigi ci sono. Grazie, grazie davvero a Ettore Rosato, Presidente Italia Viva, Vice Presidente della Camera. Lasciamo i suoi impegni. Grazie a voi. Noi rimaniamo in argomento per ascoltare anche la voce di uno dei partiti che ha lanciato proprio oggi un nuovo nome di un possibile candidato all'interno della coalizione di centrodestra, ovvero Fratelli d'Italia con la sua leader Giorgia Meloni che ha appunto avanzato il nome di Carlo Nordi. Ne abbiamo parlato con un altro deputato friulano, Walter Rizzetto, del partito della Meloni. La Presidente Giorgia Meloni ha dato delle indicazioni, ha cercato di riflettere assieme a noi. Sono susseguiti anche degli interventi da parte di senatori, deputati, grandi elettori rispetto a quello che succederà nei prossimi giorni. È molto probabile, anzi sicuramente oggi avremo una valanga di schede bianche. Questo significa che non si è ancora aggiunto né un accordo né un mezzo accordo su un nome in modo forte rispetto al prossimo inquilino del Colle. Fratelli d'Italia ha fatto e sta facendo le sue proposte, tra cui il magistrato Carlo Nordi, un personaggio di illustre fama. Diciamo che la cosa abbastanza, per come la vedo io, abbastanza strana che è successa e che si è celebrata purtroppo nelle ultime ore è evidentemente quando il segretario del Partito Democratico, Letta, ha fermato attraverso un'agenzia qualche ora fa che tutti i nomi del centrodestra faranno la fine anche in modo, voglio dire, abbastanza stilisticamente poco corretto. Sappiamo che in queste ore naturalmente i nomi si rincorrono, molti vengono fatti anche per essere tra virgolette bruciati. Quello che sullo sfondo però ritorna preponderante è il nome di Mario Draghi al Quirinale con un'ipotesi poi di Belloni, presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto vi riguarda dunque nessuna preclusione su Draghi? L'ha letto poco fa anche il suo collega Ciriani, capogruppo in Senato. Sì, beh oddio, in questo momento serve però capire quali sono i nomi del centrodestra, nel senso che Mario Draghi è sicuramente un nome altisonante, un'eccellente riserva della politica che oramai riserva non lo è più, però per adesso io le rinnovo. Mi concentrerei sui nomi che il centrodestra da qui quantomeno alla terza votazione farà senza scivolare necessariamente in altri nomi. Naturalmente continueremo a seguire anche nel corso delle prossime edizioni il TG Notte con tutto il quadro di giornata e l'esito di questa prima votazione. Ora invece rientriamo in Friuli Venezia Giulia con la cronaca in primo piano e gli aggiornamenti di giornata rispetto alla tragica morte del giovane Lorenzo Parelli avvenuto a venerdì nello stabilimento della Burimec di Lauzacco. Siamo in collegamento con Valentina Bearzi dall'esterno della Procura dove continua il lavoro degli inquirenti. Buonasera Valentina, te la linea. Buonasera David, buonasera a te chi ci sta seguendo da casa. Sono davanti alla Procura perché stanno continuando le indagini per capire le ragioni della tragica morte di Lorenzo Parelli. Ci sono diversi ambiti ancora da chiarire. La Procura e chi si sta seguendo le indagini si stanno concentrando su perché Lorenzo Parelli stesse effettuando quel tipo di lavorazione. Una lavorazione tra l'altro che stava per essere terminata ed era pronta per essere spedita e anche sulla presenza dell'eventuale tutor sul posto di lavoro per seguirlo in quella particolare e delicata mansione. Al momento per gli indagati nel registro delle notizie di reato c'è solo un indagato, il titolare dell'azienda, ma non si esclude che possano esserci altri nomi nel giro di qualche giorno. Intanto proprio l'avvocato che difende il titolare della Burimec oggi ha diffuso una nota, ha detto che non ha ancora ricevuto gli atti della Procura di Udine con la fissazione dell'autopsia per la quale comunque nomineranno un perito dedicato. La posizione del mio assistito, ha detto Stefano Buonocore, l'avvocato, resta tuttavia la stessa, riservo il silenzio nel rispetto del dolore dei familiari. Il ragazzo aveva appena ultimato la lavorazione, si doveva solo procedere con la spedizione. Bisogna capire che cosa ha provocato l'improvvisa caduta della putrella di acciaio che ha colpito e ucciso il diciottenne di Castions di strada. E proprio sul tema della sicurezza, sia sui luoghi di lavoro, ma anche in questi percorsi di alternanza lavoro-scuola, si è espresso il prefetto Massimo Marchesiello, che oggi a margine della presentazione degli eventi dedicati alla giornata sulla memoria, ha detto che convocherà presto proprio un tavolo in questo senso per capire con i sindacati, le scuole e le imprese, che cosa si può fare per migliorare la situazione, anche se ha voluto sottolineare la sicurezza per quel che riguarda la nostra regione e le imprese della nostra regione, mi sembra già piuttosto alta. Intanto continuano i momenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli. Oggi gli studenti delle Bearzi sono ritornati a scuola, sono ritornati sui banchi. Dopo la fine di questo periodo di stage c'è stato un momento di raccoglimento ogni mattina al Bearzi. Si comincia la giornata con una preghiera, in questo caso è stata dedicata proprio a Lorenzo, di cui è stata proiettata un'immagine piuttosto grande, grande come una parete in un'aula che ricorda quella di un teatro al Bearzi. I ragazzi e gli studenti hanno effettuato un minuto di raccoglimento e di preghiera. Una preghiera che è stata richiesta a tutti gli alunni delle scuole professionali italiane, della federazione e delle scuole professionali, di cui fa parte anche il Bearzi. Un raccoglimento che è continuato all'interno della classe, dove sul banco del ragazzo di Castions sono stati lasciati dei biglietti e che prosegue anche nella frazione di Morsano, con un grande cuore listato a lutto, per testimoniare anche la vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli. Si è intanto scatenato un dibattito a livello locale, ma anche nazionale, sull'opportunità di questa alternanza scuola-lavoro. Alcuni hanno chiesto comunque che ci siano maggiori misure di sicurezza e quindi degli accorgimenti, altri hanno voluto comunque sottolineare, come la Presidente di Confindustria Udine, Mareschi Danili, l'importanza di questo tipo di progetti, che rappresentano un'eccellenza per le scuole e le imprese anche della nostra regione. Ha voluto sottolineare anche come siano solo il 6% circa, fra i 5 e i 6% gli incidenti sul luogo di lavoro che afferiscono alle industrie, all'area industriale, questo nel 2021. Proprio a sottolineare come ci sia sempre più bisogno comunque di personale specializzato che si occupi di questo tipo di lavorazioni, personale sempre più difficile da trovare. Sulla stessa linea anche il consigliere comunale Giovanni Govetto che ha la delega alle scuole paritarie e che è stato anche docente al Bearzi, anche in una delle classi di Lorenzo Apparelli, che adesso è docente in altri istituti, che ha voluto proprio evidenziare come questa sia un'occasione di crescita importante per inserire alcuni ragazzi, spesso che hanno avuto difficoltà a effettuare altri corsi di studio per dargli una possibilità di lavoro e sono delle occasioni anche importanti per le aziende per avere quello personale specializzato, quella mano d'opera che ormai non si trova più. Sentiamo l'intervista a Giovanni Govetto e poi la linea è ritornata a Davide. Mi sembra che un punto su cui appunto sia interessante ragionare, sia proprio un ragionamento, è proprio quello di questo tipo di formazione che finora è rimasta un po' in sordina e che adesso sulla scorta di questo tragico evento qualcuno mette in discussione o su cui comunque si è aperta una discussione e su questo ecco io credo che possa essere un'occasione per rivendicare come è stato fatto da alcuni la ricchezza e l'importanza di questo tipo di formazione che è una formazione che coinvolge un certo tipo di ragazzi spesso come dire anche che non riescono ad essere attratti dai normali corsi di studio, dai normali corsi scolastici e che hanno la possibilità di seguire dei percorsi di studio che appunto accanto alle lezioni in aula permettono anche di svolgere come dire esperienze nelle aziende. Penso che questa sia una cosa molto interessante e la cosa che mi dispiace legata a questa tragedia è che qualcuno in qualche modo subito punta il dito contro questo tipo di esperienze delle aziende. Allora io che opero nel settore e che in qualche modo vedo anche come amministratore come funziona dico questo c'è una grandissima fatica a trovare aziende a trovare imprenditori che diciamo si mettano a disposizione questi luoghi per fornire un servizio di formazione degli studenti qui non parliamo di stage o di altre cose che si collocano dopo la scuola qui proprio fa parte della formazione scolastica e sono imprenditori sono realtà produttive che fanno un grande servizio che fanno un servizio per la società prendendosi anche il rischio perché quello che è successo questa tragedia evidentemente è una cosa che in qualche modo si riverbererà anche proprio sull'azienda quindi prendendosi grandi rischi a fronte sostanzialmente di nessun beneficio se non di quello di formare gli studenti allora io penso che come dire giustamente si dovranno vedere le responsabilità giustamente sicuramente anche il sistema duale è un sistema che in qualche modo va deve essere come dire migliorato e secondo me anche potenziato però attenzione a non strumentalizzare come ho letto da alcuni queste situazioni come dire per andare nella direzione contraria cioè qui questa deve essere l'occasione per migliorare un sistema che è riconosciuto come un sistema che funziona e come dire per mettere a tema il fatto che per i ragazzi l'esperienza lavorativa in certi casi è importante è fondamentale deve essere utratta è importante e fondamentale però non che avvenga a 25-30 anni perché questi ripeto sono giovani che come dire i normali percorsi scolastici non riescono a come dire ad assorbire sono spesso giovani che arrivano anche da fallimenti in altri percorsi scolastici diciamo più tradizionali e che quindi è importante che trovino un ambito che in qualche modo li introduce nel modo del lavoro continuiamo con la cronaca falso in certificazioni e truffa ai danni dello Stato di questo dovevano rispondere un farmacista e tre docenti della provincia di Udine indagini dei NAS che hanno permesso di scoprire che gli insegnanti avevano ottenuto un Green Pass senza mai aver effettuato il tampone il servizio di Francesca Santoro hanno ottenuto il Green Pass base senza mai aver eseguito il tampone nell'ambito delle verifiche sulla regolarità di esecuzione dei test tre insegnanti operativi in diverse scuole della provincia di Udine e un farmacista di un paese della Carnia sono stati indagati per falso in certificazioni e truffa ai danni dello Stato al termine di una prima fase delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Udine i NAS hanno dato esecuzione stamattina cinque decreti di perquisizione nei confronti dei quattro le perquisizioni hanno riguardato l'attività e l'abitazione del farmacista e le case dei tre insegnanti una delle quali a Padova l'indagine che ha preso il via novembre scorso ha consentito di appurare che gli insegnanti con la complicità del farmacista ottenevano appunto Green Pass necessario lavorare prima dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola tramite tamponi in realtà mai effettuati le indagini proseguono anche su altri filoni relativi invece alla pratica di confezionare falsi risultati negativi su richiesta non è escluso quindi che vengano alla luce altri casi di persone che si sono avvalse di false certificazioni tornano a salire i ricoveri in Friuli Venezia Giulia sul fronte del contagio 37 quelli nelle terapie intensive e nuovi aumenti anche per le aree mediche abbiamo superato complessivamente quota 500 in Friuli Venezia Giulia oggi si tocca il record dei pazienti ricoverati nelle mediche in questa quarta ondata è questo il dato che spicca dai numeri delle ultime 24 ore sono 2.119 i contagi registrati 9 i decessi cifre che come di consueto scontano il ridotto numero di tamponi effettuati durante la domenica sono invece in crescita i ricoveri 39 i pazienti in rianimazione mentre sono 464 quelli nelle aree mediche un numero fino ad ora mai toccato pericolosamente vicino alla soglia dei 500 anche in quest'ultima giornata di rilevazioni la fascia più colpita risulta quella dei più giovani gli under 19 con oltre il 27% dei contagi a seguire quella tra 40 e 49 anni con il 20% 9 i morti la più anziana una novantenne di Trieste la più giovane una concittadina di 71 anni oltre 61.600 le persone in isolamento dall'inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid secondo i dati del Ministero della Salute infatti sono 1 su 6 la variante Omicron risulta più trasmissibile della Delta sebbene determini una carica virale simile talvolta addirittura inferiore inoltre a 5 giorni dal primo tampone il 50% dei positivi potrebbe essere ancora contagioso rendendo di fatto pericoloso l'isolamento breve adottato da paesi come gli Stati Uniti lo indica uno studio condotto dalla Harvard di Boston sui tamponi molecolari eseguiti agli atleti dell'NBA anche un secondo studio dell'Università di Ginevra evidenzia come non ci siano sostanziali differenze di carica virale tra i vaccinati infettati da Delta e quelli colpiti da Omicron oggi il Friuli Venezia Giulia è tornato in zona arancio per i vaccinati cambia pochissimo se non nulla mentre la prefettura di Udine ha fatto sapere che verranno intensificati i controlli per i non vaccinati ne abbiamo parlato con il prefetto Massimo Marchesiello che annuncia anche una nuova stretta proprio sulle farmacie da oggi Friuli Venezia Giulia in zona arancione le restrizioni riguardano soprattutto i non vaccinati avete previsto dei controlli particolari? Beh, verranno sicuramente intensificate già abbiamo attivato anche l'altra settimana con le forze di polizia mirati interventi e controlli soprattutto nelle farmacie perché anche lì si è evidenziata una criticità molto particolare Per quanto riguarda il divieto ai non vaccinati di muoversi da un comune all'altro anche questo aspetto sarà monitorato? sarà monitorato sicuramente perché sì siamo in un momento ripeto di particolare riflessione su quello che sta succedendo quindi l'attenzione deve essere tanta soprattutto in questo momento dove forse riusciamo a scavallare con diciamo conseguenze meno importanti però l'attenzione ci deve essere fortissima Temete ci siano ulteriori episodi di proteste come stanno avvenendo in altre piazze italiane? Al momento non sono segnalate abbiamo avuto cose molto sporadiche su cui diciamo l'attenzione e in particolare la sorveglianza e la vigilanza è stata forte ma non abbiamo avuto particolari criticità anche in questo fine settimana Tornando ai numeri vi mostriamo anche le tabelle aggiornate rispetto alle varie soglie tra zona arancia e zona rossa secondo i criteri governativi come potete vedere il limite della zona rossa fissato a 510 per le aree mediche è ancora lontano con i numeri di oggi siamo saliti a 464 sul fronte delle terapie intensive il limite da zona rossa è 52 siamo a 39 quindi numeri che rimangono al momento da zona arancio i dati a livello nazionale invece andiamo a vedere con il grafico aggiornato del ministero sono stati 77.696 nuovi contagi di giornata 352 le vittime numero ancora molto alto scendono invece di 25 mila unità gli attualmente positivi nel nostro paese sono 2 milioni 709 mila c'è il tema poi delle mascherine con una novità lanciata oggi da Pordenone è stato aperto un temporary shop da parte della Confindustria Alto Adriatico dove sono in vendita appunto le mascherine a prezzo calmirato è stato inaugurato oggi a Pordenone il nuovo punto vendita di mascherine di Confindustria Alto Adriatico questa apertura porta nel centro storico uno spaccio con prezzi di fabbrica dove sarà possibile acquistare mascherine FFP2 al costo calmirato di 40 centesimi l'iniziativa degli industriali è un nuovo tassello dopo le campagne di tamponi e vaccinazioni nelle aziende e l'apertura del nuovo hub vaccinale nei locali della Seleco a Valle Noncello un nuovo risultato che è dentro una pianificazione di interventi fatti a sostegno della sanità pubblica e devo dire che sono molto soddisfatto perché in questa maniera noi alleviamo anche il peso economico del dover avere dispositivi come l'FFP2 e quindi saranno venduti a prezzi che sono la metà di quelli indicati dal generale Figliolo per la vendita al pubblico qui si sono trovati uomini capaci di lavorare insieme pensando solo al bene pubblico e quindi questa è stata la ragione di questo straordinario successo di tutte queste operazioni i 300 mila tamponi rapidi fatti nelle fabbriche i vaccini fatti nelle fabbriche i protocolli per mantenere lavoro il 75% delle aziende nel periodo peggiore della pandemia gli hub vaccinali che abbiamo realizzato a Valle Noncello che vaccinano mille cittadini al giorno è quello che apriamo venerdì nella zona industriale Ponte Rosso al servizio di tutta l'area del San Vittese quindi credo è un servizio grande che abbiamo reso alla comunità e di questo siamo legittimamente orgogliosi un flash sul mondo delle banche la cassa di risparmio di Bolzano la SparCasse e Civibank hanno reso noto che il presidente della SparCasse Brandstatter e l'amministratore delegato Nicola Calabro sono intervenuti all'odierna assemblea del consiglio di amministrazione di Civibank l'incontro ha reso possibile l'avvio di un confronto sui contenuti dell'operazione annunciata da SparCasse lo scorso 9 dicembre 2021 ora ci spostiamo a Trieste per gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovic potrebbe risalire al giorno in cui la donna è scomparsa dalla sua abitazione proprio il 14 dicembre a quanto si apprende le condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere il 5 gennaio sarebbero compatibili con la morte avvenuta diversi giorni prima proseguono le indagini condotte dalla squadra mobile e dalla procura in attesa degli esiti degli esami tossicologici non è stata esclusa l'ipotesi anche di un suicidio nel frattempo domani ci sarà il suo funerale per l'ultimo saluto il marito Sebastiano Visintin poserà sulla bara un cappello rosso tra i preferiti della donna esplosione invece nella notte in una roulotte a Reana del Royale in un'area abitata da famiglie Rom due persone che stavano maneggiando con delle bombole collegate al gas sono rimaste ostionate un uomo e una donna nella notte sono rimasti feriti in modo serio a causa dello scoppio di due bombole a gas l'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte in via Galvani a Reana del Royale in una roulotte posizionata nel giardino di una casa accanto ad altre strutture abitative mobili in cui risiedono famiglie Rom pare che i due stessero maneggiando le bombole collegate a una stufa quando appunto si è verificata un'esplosione in seguito a una fuga di gas non è scoppiato un incendio ma entrambi i malcapitati sono stati investiti immediato l'allarme che ha portato l'intervento dei sanitari con un'ambulanza e dei vigili del fuoco con la prima partenza del comando di via Popone a Udine i due feriti che non sarebbero in pericolo di vita sono stati trasportati in gravi condizioni a Santa Maria della Misericordia mentre i pompieri hanno messo in sicurezza l'area interessata dalla deflagrazione a sei anni esatti dalla scomparsa di Giulio Regeni dal Cairo domani a Fiumicello si rinnoverà la richiesta di verità e giustizia per il giovane ricercatore friulano nel corso dell'evento pensieri parole musica per Giulio promosso dai genitori Paola e Claudio Regeni dall'avvocato Alessandra Ballerini previste la partecipazione tra gli altri di PIF Luciana Littizzetto Stefano Accorsi Ascanio Celestini Gianni Cuperlo e Vinicio Caposela tra l'altro stamattina il presidente del Consiglio Draghi e il ministro della Giustizia Cartabia hanno incontrato proprio i genitori di Giulio Regeni ora apriamo la pagina sportiva per parlare di Udinese dopo il pareggio di Genova arriva una sosta provvidenziale per la formazione bianconera che potrà recuperare energie e riordinare le idee dopo un mese di gennaio condizionato dal covid e dalle difficoltà esterne Stefano Giovampietro L'Udinese ha chiuso un mese di gennaio difficile e faticoso a tratti anche sul Reale con un pareggio ambivalente in quel di Genova il punto è stato buono per muovere la classifica e interrompere la striscia di tre sconfitte di fila vero ma anche palesato problemi in fase di realizzazione con zero tiri in porta scoccati verso Sirigu la condizione generale della squadra afflitta dal covid in questo mese tra reinvie, ricorse e allenamenti mai al completo non è sembrata di certo delle migliori e per questo la sosta può davvero considerarsi una sorta di benedizione per una squadra che ha bisogno di ritrovare elementi importanti energie oltre a riordinare le idee le due settimane di soli allenamenti saranno manna dal cielo per Cioffi e il suo staff tecnico che potrà concentrarsi anche sull'integrazione dei due nuovi arrivati vale a dire i difensori Pablo Marì e Filip Benkovic dalle ottime potenzialità ma che necessitano di calarsi al meglio nella nuova realtà del campionato di Serie A lo stop per le nazionali priverà l'allenatore bianconero del solo Molina partito per rispondere alla convocazione dell'Argentina e quindi sarà l'occasione perfetta per lavorare su alcuni concetti di gioco che, complici le fatiche di Coppa contro la Lazio sono sembrati smarriti sul prato verde dello stadio Luigi Ferraris di Genova nel frattempo verranno anche prese le decisioni in relazione alle partite non disputate contro Fiorentina Salernitana con il giudice sportivo che ha intanto sancito il 3-0 per l'Udinese oltre che sulla partita contro l'Atalanta insomma a rientro dalla sosta potrebbero essere cambiate tante carte in tavola e l'Udinese dovrà farsi trovare pronta al ritorno a una partita in casa dopo praticamente quasi un mese in trasferta chissà che una di queste novità non possa essere Pereira l'Argentino fermo dalla gara di andata contro il Genoa ha fame di campo e sta lavorando per provare a esserci contro il Granata almeno per una convocazione la speranza resta e la sua qualità servirebbe particolarmente vista la certa assenza per squalifica di Deolofeo il quale dovrebbe essere rimpiazzato da un success che è stato tra i migliori nelle ultime uscite sebbene sempre parziali e a proposito dei prossimi turni di campionato la Lega Serie A ha diffuso le date e gli orari delle varie sfide l'Udinese giocherà con il Torino alla Dacia Arena domenica alle ore 18 domenica 6 febbraio quindi per la sesta giornata di ritorno la trasferta a Verona fissata per domenica 13 febbraio alle ore 15 e successivamente la sfida contro la Lazio sempre alla Dacia Arena si giocherà domenica 20 febbraio alle 20.45 alla Dacia Arena di Udinese con tutte le ultimissime si parlerà come ogni lunedì stasera al Tonight condotto da Giorgia Bortolossi con i suoi ospiti e i nostri opinionisti per un quadro completo rispetto alla formazione di mister Cioffi per quanto riguarda invece l'informazione 20 e 30 appuntamento col Veneto tra poco invece le pillole di fair play con Francesco Pezzella il TG Notte alle 22 e 30 grazie per averci seguito buona serata Giorgia Bortolossi Giorgia Bortolossi Giorgia Bortolossi Giorgia Bortolossi